Oggi a Percusa sta nascendo qualcosa che speriamo sia utile alla Sicilia e ai siciliani, una scelta di campo forte a favore degli interessi del territorio e delle popolazioni che ha visto uniti gente di sinistra, di destra, di centro, ma soprattutto ha visto unito imprenditori, lavoratori, rappresentanti dell'associazionismo siciliano. È un momento che si raccoglie attorno a un'espressione che noi abbiamo voluto condensare in i siciliani verso la Costituente. È una Costituente che noi vediamo come strumento per realizzare un movimento vicino agli interessi siciliani legato solo alla Sicilia che risponde alla Sicilia. La presenza del Presidente della Regione ci ha fatto piacere perché questo ci consentirà di dargli una spinta nel momento in cui farà le grandi battaglie. La prima battaglia, l'abbiamo già richiesta in piena assemblea, quello di ridare alla Sicilia tutte le competenze fiscali che le competono. Quindi la prima cosa che potrebbero avere i siciliani su questo è per esempio il dimezzamento del costo della benzina o il dimezzamento del costo dell'arciauto. Abbiamo una serie di battaglie concrete che possono fare restare nelle tasche dei siciliani milioni e milioni di euro e quindi riprendere il cammino per una battaglia autonomistica concreta e non sulle parole. Un'altra battaglia che faremo e concludo, questo messaggio veloce che voglio fare e che abbiamo fatto oggi insieme centinaia di amici, è quella della lotta ad un tipo di autonomia legata al privilegio e legata al disservizio pubblico che viene interpretato dall'amministrazione regionale. Le ultime dichiarazioni di Musumeci ci fanno sperare che anche i vertici della regione saranno su questa linea.